La settimana promette sviluppi interessanti nella trama di La Promessa dal 18 al 22 settembre. Le scene iniziano con Gianna, che sembra essere tormentata dai ricordi di quella fatidica notte in cui Pia ha abbattuto il barone. Questo flashback fornisce una connessione emotiva al dramma passato che i personaggi hanno vissuto. L'irruzione di Curro nella stanza aggiunge tensione, poiché i suoi dolori fisici ed emotivi vengono esplorati. Questo segnala la profondità della sua esperienza traumatica e le complesse relazioni familiari. L'atmosfera cambia drasticamente con la scena in cucina, che ha un tono più leggero ma stressante. Gregorio, Simona e Lope danno vita a una scena comica, ma tensa, con il cibo che viene preparato e poi rovesciato nel lavandino. La visita inaspettata di Catalina suggerisce che lei ha un'agenda segreta, e il fatto che Gregorio voglia servirla solleva ulteriori interrogativi sul suo ruolo. Catalina, una figura centrale in queste anticipazioni, si ritrova al centro di vari intrighi. La sua interazione con Gianna sottolinea l'importanza della storia di Manuel e dell'aereo, presentando un possibile nuovo filone narrativo. La minzione dei pezzi di ricambio e dei costi potrebbe portare a sfide future. La protezione che Martina cerca di assicurare a Catalina evidenzia le potenziali minacce che si celano nell'ombra, suggerendo che la missione di Catalina potrebbe portarla in acque agitate. Mauro, apparentemente un personaggio maschile forte, è introdotto come potenziale salvatore. Un chiaro segno del pericolo imminente. La rivelazione di Alonso sull'esistenza di un impostore tra di loro crea un'atmosfera carica di incertezza e paranoia. Questo sospetto prende un volto quando Alonso chiama il sergente Funes, che rappresenta la legge e l'ordine, per aiutarli a risolvere questo mistero. La decisione di Alonso di coinvolgere Funes rafforza la gravità della situazione e, quando presentano come prova le lettere incriminanti di padre Camilo, si sente che il climax si avvicina. Mentre la tensione principale si sviluppa attorno alla figura di padre Camilo, una sottotrama parallela emerge attraverso l'interazione tra Romolo e Gregorio. L'incidente in cucina serve come un punto di distrazione, ma allo stesso tempo, fornisce insight sul personaggio di Gregorio e sulle dinamiche di potere all'interno della casa. Tuttavia, la scena più drammatica e ricca di tensione avviene quando padre Camilo, apparentemente disposto a chiarire la situazione, improvvisamente cambia tono, assalendo Funes e minacciando il Marchese con una pistola. Questo twist non solo sottolinea la natura pericolosa di padre Camilo, ma crea anche una situazione di estremo pericolo per i protagonisti. La chiusura della puntata con padre Camilo, che domina i due uomini legati e imbavagliati promette un prosieguo carico di suspense. L'ultimo segmento con Gregorio alla porta serve a intensificare ulteriormente la tensione, poiché siamo resi consapevoli del potenziale pericolo che anche lui potrebbe correre se scoprisse cosa sta realmente accadendo. In conclusione, queste anticipazioni offrono uno scenario pieno di suspense, drammi interni e sviluppi inaspettati, lasciando gli spettatori sul bordo delle loro sedie. Desiderosi di scoprire come si svilupperà questa situazione intricata e pericolosa. Iniziamo con un momento di apparente tranquillità, quando Gregorio è chiamato per preparare un infuso, suggerendo che, per un breve momento, la situazione potrebbe essersi calmata. Tuttavia, la tranquillità viene interrotta quando Lorenzo cerca di offrire un po' di conforto a Curro, rivelando la possibilità di una visita a sua madre, Eugenia. Questo intermezzo ha l'effetto di mostrare la vita quotidiana e le preoccupazioni individuali dei personaggi, che procedono nonostante il caos che li circonda. Ma la vera azione riprende quando Catalina scopre il marchese e il sergente in una situazione di estremo pericolo. La scoperta degli uomini legati e imbavagliati scatena una caccia frenetica attraverso la casa per padre Camilo. Il crescendo di tensione raggiunge un picco quando padre Camilo prende Lope come ostaggio, creando una situazione di crisi che coinvolge molti personaggi. La rivelazione di Gregorio, Teresa, Maria e Petra sulla presenza di un uomo armato in casa porta il dramma a nuovi livelli. Il terrore e la confusione sono palpabili, con Catalina che cerca disperatamente di mettere in guardia gli altri residenti sulla minaccia che si nasconde tra di loro. Mentre la tensione continua a salire, vediamo un padre Camilo sempre più disperato. Che cerca una via di fuga ma allo stesso tempo non esita a minacciare la vita di Lope per ottenere ciò che vuole. Il climax di queste anticipazioni arriva quando Romulo, in un tentativo di salvare la situazione, emerge silenziosamente, sottolineando la pericolosità e l'incertezza del momento. La tensione dell'episodio precedente sembra avere delle ripercussioni. Dopo l'audace intervento di Romulo, che riesce a neutralizzare padre Camilo nonostante si ferisca, la residenza sembra tornare in una condizione di relativa normalità. Il sergente Funes interviene prontamente e si assicura che padre Camilo venga portato via per l'interrogatorio, ponendo fine alla minaccia immediata. Una delle scene più emotive viene quando Petra affronta padre Camilo. L'intensità con cui gli assesta uno schiaffo rispecchia l'entità del tradimento e della menzogna che ha perpetrato. Evidenziando quanto profondo fosse l'affetto o la fiducia che Petra aveva riposto in lui. L'atmosfera cambia leggermente durante la cena del personale di servizio, dove Romulo, riconosciuto come l'eroe del giorno, viene applaudito e celebrato. Questo momento di unità e solidarietà contrasta con la tensione e il dramma avvenuti poco prima, offrendo agli spettatori una pausa emotiva. Tuttavia, nuovi sospetti cominciano a serpeggiare quando Martina discute di un piano con Mauro e Gregorio si offre di aiutare. La ferma rifiutazione di Martina verso Gregorio suggerisce che ci potrebbero essere delle tensioni sottostanti tra i personaggi. La diffidenza di Gianna nei confronti di Gregorio aggiunge ulteriore complessità alla narrazione, suggerendo che ci potrebbero essere altri segreti e complotti in agguato. Il segmento si conclude con una conversazione rivelatrice tra Alonso e Cruz. Mentre Alonso spiega la situazione legata a padre Camilo, emerge una frizione nei loro rapporti. Cruz esprime il suo disappunto per il comportamento di Alonso, suggerendo che ci siano problemi non risolti tra i due. Questo dialogo pone le basi per ulteriori sviluppi narrativi e dinamiche interpersonali nel futuro. Il dramma si intensifica, ed emerge una serie di eventi interconnessi che alimentano la trama e danno spessore ai personaggi. Dopo la misteriosa scomparsa del barone, il malcontento di Cruz rispetto ad Alonso si manifesta ulteriormente. Si delinea la sensazione che Cruz senta il peso della responsabilità verso il barone e si è infastidita dal fatto che Alonso non abbia contribuito nella ricerca. Mentre la trama principale si svolge, una sottotrama interessante emerge con Gianna e Maria. Gianna, entusiasta e determinata, mostra a Maria un vecchio libro di Manuel, che potrebbe essere la chiave per riparare un aereo. Questa storyline non solo aggiunge una sfumatura tecnologica e avventurosa, ma permette anche a queste donne di esplorare le loro ambizioni e di definirsi al di fuori delle convenzioni sociali. Il rapporto tra Jimena e Manuel si approfondisce. Anche se Manuel soffre di mal di mare, Jimena lo incoraggia a sperimentare e a superare le sue paure. La sua capacità di influenzare e cambiare la percezione di Manuel sulle crociere suggerisce un legame profondo tra i due, dove ciascuno ha un potere unico sull'altro. La situazione tra Lorenzo e suo figlio Curro è sia comica che tragicomica. La rivelazione di Lorenzo ad Alonso sul tentativo di fare diventare uomo Curro, portandolo in un bordello, è uno di quei momenti in cui la commedia e il dramma si intrecciano. Alonso è incredulo e forse anche un po' orripilato, ma Lorenzo sembra sinceramente credere di aver fatto la cosa giusta. Nel frattempo, l'energia e l'entusiasmo delle ragazze, Gianna e Catalina, nel perseguire il sogno di Manuel vengono frenati dal timore di Curro per la sicurezza di Manuel. Curro rappresenta quella voce di ragione che mette in guardia dal pericolo di riparare l'aereo. Questo crea una tensione tra il desiderio di onorare e realizzare un sogno e la realtà delle potenziali conseguenze. Dopo le recenti rivelazioni, l'atmosfera alla promessa è densa di tensione e preoccupazione. La decisione di Alonso e Cruz di ritardare l'apertura del testamento del barone è carica di implicazioni. Sembra che entrambi vogliano proteggere la famiglia e il patrimonio dal possibile scandalo o dalla cattiva gestione di Lorenzo. Il ritorno del sergente Funes porta nuove informazioni cruciali. Scoprire che padre Camilo era una spia amplifica la portata della trama. I marchesi sono probabilmente preoccupati per le informazioni che il finto prete potrebbe aver trasmesso e come potrebbero essere usate contro di loro. L'interazione tra Curro e Gianna getta luce sul profondo trauma che Curro ha subito a causa di suo padre. La sua confessione e la sollecitudine di Gianna rivelano una relazione di fiducia e comprensione reciproca. Candela e Pia condividono un momento toccante. La gravidanza di Pia è ovviamente un segreto che potrebbe avere ripercussioni significative. E il supporto di Candela è cruciale in un momento così delicato. L'energia e l'entusiasmo di Sana e Catalina nel restaurare l'aereo di Manuel sono un segno del loro impegno verso l'amico. Questo gesto ha lo scopo di sollevare il morale di Manuel dopo il recente trauma. E sembra che Manuel stia facendo progressi. Non solo sta iniziando a camminare di nuovo, ma la vicinanza con Jimena lo porta a considerare un futuro insieme. Tuttavia, la scena tra Lorenzo e Curro è forse la più scioccante. La violenza di Lorenzo verso suo figlio rivela un lato oscuro del personaggio, mostrando quanto sia teso e instabile. Questo probabilmente servirà come punto di svolta nel loro rapporto e potrebbe avere ripercussioni significative in futuro. La decisione di Pia di parlare con Gregorio è audace. La sua richiesta di un trattamento più umano per il personale di servizio riflette la sua crescente consapevolezza delle ingiustizie sociali e della sua volontà di fare la differenza. La risposta sorprendentemente positiva di Gregorio lascia spazio a un barlume di speranza, suggerendo che forse non tutto è perduto e che anche i personaggi apparentemente antagonisti possono cambiare. I rapporti familiari alla promessa diventano sempre più intricati. La conversazione tra Lorenzo e Cruz mette in luce la tensione tra loro e il fatto che entrambi potrebbero avere motivazioni nascoste quando si tratta di Eugenia. L'intervento tempestivo di Alonso sottolinea il suo ruolo di pacificatore e leader nella famiglia. La rivelazione di Mauro su Petra che ha avuto la spilla è un ulteriore colpo di scena. Ciò dimostra la complessità della trama e delle relazioni tra i personaggi. La reazione di Catalina è comprensibile, dato l'importanza emotiva della spilla per lei. L'intervento sorprendente di Cruz, tuttavia, sottolinea ulteriormente quanto siano intrecciate le vite di questi personaggi. Il bacio inaspettato tra Maria e Lope porta una nota di romanticismo alla storia. Sebbene il momento imprevisto possa portare a ulteriori complicazioni tra i due. Manuel e Gimena, nel frattempo, sono ansiosi di dichiarare il loro amore al mondo. Questa mossa potrebbe servire come un baronome di speranza e gioia in una trama altrimenti piena di intrighi e tensioni. In conclusione, la storia continua ad avvolgersi in mistero e dramma. Ogni episodio porta nuove rivelazioni e colpi di scena che tengono gli spettatori incollati. Grazie al vostro appassionato racconto, gli spettatori sono sempre ansiosi di vedere cosa succederà dopo. La chiusura, che invita alla discussione e all'interazione, è un ottimo modo per coinvolgere il pubblico e alimentare l'entusiasmo per gli episodi futuri.